Uno dei motivi per cui siamo qua è perché Ascotrade ci dà l'energia per fare la tiramisù World Cup. Ascotrade oggi è un nostro partner, sicuramente tra i più importanti, e noi siamo powered by Ascotrade. Noi stiamo ricercando il tiramisù più buono del mondo e quindi siamo venuti anche qui a Pordenone per stimolare gli aspiranti pasticceri ad iscriversi alla tiramisù World Cup. Ma sicuramente la motivazione principale è riuscire a conoscere altri colleghi e altri imprenditori con i quali riuscire a intavolare dei rapporti o anche un semplice confronto.